Siamo con François Salvagni per High Volley Fast, panchina di Cuneo, nuovo campionato, nuova squadra, una partita che ha portato un punto, una partita però a doppia velocità. Assolutamente sì, siamo stati bravi a partire nel modo giusto e a giocare una buona pallavolo per un 7,5, anche se quando l'avversario ti concede un po' di spazio dobbiamo essere molto più aggressivi, più cinici e portare a casa quello che ci concede. Alla fine l'avversario ha iniziato a giocare molto bene, è cresciuto tanto durante il corso della partita, noi abbiamo iniziato a essere un pochino impauriti e forse a sentire un po' la fatica e alla fine in merito a Trento che ha vinto una grandissima partita. Siamo contenti perché un punto in trasferta contro una grande squadra è sempre fondamentale, però dobbiamo crescere tanto già in questa settimana. Questa settimana su cosa si punta soprattutto? Sicuramente dobbiamo lavorare sull'organizzazione che è la cosa più difficile quando c'è uno staff nuovo e 11 ragazze nuove e forse anche qualcosina in più per quanto riguarda i nostri colpi in attacco che abbiamo diverse possibilità e delle volte ci scordiamo di utilizzarle tutte come ha fatto meglio dal terzo set in poi Trento. Va bene, grazie e buon lavoro. Grazie, grazie. Grazie.